Molto volentieri noi del LIVOS portiamo oggi il nostro contributo e la nostra testimonianza. Dinamica, per la prima volta nel nostro Paese, pone le pubbliche amministrazioni in un ruolo di servizio che esce dall'astrazione, dalle parole, ma opera operato sulla struttura, spingendo le pubbliche amministrazioni ad evolversi così come evolvono la società e i bisogni dei cittadini. Amministrare vuol dire servire. Gli inglesi chiamano significativamente le pubbliche amministrazioni civil service, servizio alla cittadinanza. Ma per servire si devono prima di tutto conoscere e comprendere le esigenze e le necessità dei cittadini. Le nuove tecnologie rappresentano in questo senso un'opportunità straordinaria per fluidificare e velocizzare i rapporti tra utenti e amministrazioni. Se ben utilizzate, consentono una relazione immediata, quasi personale, tra pubbliche amministrazioni e cittadinanza, con l'ulteriore vantaggio di una comodità e di una rapidità di risoluzione dei problemi sconosciuta ai vecchi sportelli e al pubblico. Ecco perché l'IPOS ha scelto da tempo di puntare sulla multimedialità per fornire un servizio più rapido ed efficace ai suoi iscritti. È la stessa filosofia che ci ha portato ad essere tra i primi enti ad aderire a Linea Amica, firmando il 28 luglio 2009 il protocollo con funzione pubblica e Formez, convinti in questo modo di rafforzare ulteriormente la nostra capacità di risposta e di risoluzione dei problemi all'utenza. E così è stato. La centralizzazione dei servizi proposta da Linea Amica è una scelta intelligente e razionale, una di quelle sinergie positive che aumentano la produttività delle pubbliche amministrazioni, economizzando le spese. Questo nuovo sistema raccordato della pubblica amministrazione non solo contribuisce concretamente a diminuire quella separatezza fra pubbliche amministrazioni e cittadino di cui tanto giustamente ci si lamenta, ma rende effettiva l'idea di un'amministrazione che viaggia finalmente unita, coesa e pronta al dialogo con gli utenti. Un'amministrazione davvero al servizio del cittadino, dagli sportelli della quale non deve più uscire quella frase che prima era ricordata non è di mia competenza, no, è sempre di nostra competenza. Linea Amica viene così ad essere un altro canale, in aggiunta al nostro call center e al sito internet di cui facevamo già fronte alle richieste dei nostri pensionati e lavoratori in attività. Il call center risponde a molte centinaia di migliaia di telefonate all'anno, per lo più di carattere previdenziale ed anche il nostro sito istituzionale è molto frequentato, ricevendo decine di migliaia di contatti al mese. Lo sviluppo dei servizi a distanza ha rivoluzionato il tradizionale rapporto tra amministrazione e cittadino. Assistiamo oggi ad un protagonismo ed una nuova centralità degli utenti che interagiscono e dialogano direttamente e per certi versi dall'interno con la propria amministrazione. Una evoluzione positiva che però ci carica di una grande responsabilità, essere all'altezza delle aspettative, giustamente alte dei cittadini. I giudizi sul servizio, ricevuto, forniti dal sistema di rilevamento e emoticons, ci dicono che finora siamo riusciti nel nostro intento. Le percentuali di insoddisfazione sono appena del 2,7%. E mi fa piacere sottolineare che si tratta di dati particolarmente significativi, perché la metà di coloro che contattano il call center scelgono di esprimere la loro valutazione sul servizio. Per tutte queste ragioni, noi che assicuriamo tutte e quattro le forme di sostegno sociale ai cittadini, la previdenza, l'assistenza, la mutualità, il credito, credo siamo il solo istituto in Italia che provveda a tutte e quattro queste necessità, passando dalle pensioni subito ai corsi di avviamento del lavoro dei giovani, ai bonus bebè per i neonati, iniziative per la terza età, al sostegno per i malati e per le specialistiche, e ai bassi tassi, introvabili sul mercato, per tutte le necessità legate a prestiti, per esempio anche noi in Abruzzo, abbiamo immediatamente messo a disposizione per la ricostruzione degli immobili distrutti delle somme, dei prestiti che vanno sotto il 3% di interesse. Per tutte queste ragioni, dicevo, abbiamo deciso di insistere nello sviluppo delle nuove tecnologie applicate ai servizi all'utenza. E giovedì, proprio qui al forum, presenteremo un nuovo progetto, un progetto annuale. L'anno scorso abbiamo presentato il servizio innovativo SMS, informazioni ai nostri iscritti tramite messaggi sul telefonino. Il progetto che presenteremo quest'anno è un progetto destinato ad evolvere e cambiare la relazione tra cliente-utente e pubblica amministrazione. Per ora, però, non voglio dire di più. È il progetto Ipost a casa tua. Così l'abbiamo intitolato Ipost a casa tua. Lo illustreremo dopo domani e in questo modo continueremo a collaborare con linea amica non solo con adesioni ma anche con progetti e anche con l'impegno che da primo momento abbiamo voluto dare a questa iniziativa così bella e così necessaria.